Cari Gitarnauti, ciao e bentornati sul nostro vlog Vele Suono, che anche oggi avrà la solita struttura come le puntate precedenti, ovvero una prima parte in cui vi dirò quali sono le novità in corso e una seconda parte in cui risponderò alle vostre domande che mi avete lasciato nei commenti sotto al video scorso, eventualmente anche facendo dei saluti. Quindi se vogliamo aggiungere questa cosa, se oltre alle vostre domande e ai commenti sotto a questo video volete lasciarvi anche delle richieste di saluti, vi saluterò nella prossima edizione di Vele Suono. Ok? Ecco due cosettine di servizio come sempre nel box della descrizione del video di questo video vi lascio ancora il numero di Whatsapp per ottenere gli aggiornamenti su Whatsapp, quindi aggiungete quel numero alla vostra rubrica e mandateci un messaggio con scritto Chitarra per attivare gli aggiornamenti. Tutti i lunedì e giovedì vi arriveranno gli aggiornamenti sul vostro telefono, oppure anche potete registrarvi all'area didattica e ricevere così invece la newsletter se preferite ricevere delle email. Ok? Fatelo subito, fatelo adesso qui sotto. Poi partiamo con la prima big news di oggi, avevo annunciato già nelle puntate precedenti che avevo un'importante novità a livello personale in arrivo, cioè mi sposo, come avete letto nel titolo, a maggio. Quindi anche uno scapolone impenitente come me alla fine ha dovuto cedere e a maggio ci sposeremo, quindi sarà semplicemente un'occasione per fare una festa con tutti gli amici e parenti e suoneremo, suoneremo tanto sicuramente. Quindi sarà una giornata di musica e magari troveremo il modo anche di, diciamo, testimoniare con dei video, non so se addirittura live, sarebbe carino coinvolgervi nell'evento. Quindi magari faremo dei video da pubblicare così per farvi vedere un pochino le fasi della giornata. Non garantisco niente ma prometto che ci proverò. Poi altra novità su cui vi voglio aggiornare, sto procedendo con la produzione del corso ROC Intermedio, visto che ricevo un sacco di mail e di richieste. Claudio, quando verrà pubblicato il corso ROC Intermedio in preparazione? Direi verosimilmente a un mesetto a partire da oggi, quindi sto finendo di scrivere le parti iscritte, appunto i documenti che adesso vi faccio vedere. Poi settimana prossima, anzi fra una decina di giorni, inizierò con la parte video, a registrare le parti video, ci sarà il montaggio, tutte le fasi diciamo finali e poi finalmente la pubblicazione del corso. Per quanto riguarda le parti iscritte vi faccio vedere velocemente che cosa sto facendo. Ora dovreste vedere un attimo, ho condiviso lo schermo, quindi vedete che sto, quindi questo è una unit, quindi qui sostanzialmente abbiamo le parti iscritte della unit 1, ok? Quindi tolto un'introduzione, in ogni unit avremo sempre questo sistema SRS, cioè strumentazione ritmica solista, vuol dire che in ogni unit ci sarà un elemento di strumentazione, uno di ritmica e uno solista, ok? Ora vi faccio vedere rapidamente, quindi nella unit 1 ad esempio avremo i pick up, l'uso dei pick up, i power chords sulla sesta corda e la pentatonica in quinta posizione. Quindi sostanzialmente nella parte strumentazione spiegherò nei video, chiaramente, quello che poi troviamo anche qui nella parte scritta, come utilizzare i pick up e il selettore dei pick up, ok? Quindi ci saranno alcuni esempi, proprio a lato pratico, come usare, come ottenere un buon suono dai cambi di posizione del pick up. Nella parte ritmica spiegherò come si usano i power chords sulla sesta corda, ci saranno anche chiaramente tutti i vari diagrammi in allegato, sempre come vedete c'è sempre la parte di diagrammi. Nella parte solistica parleremo appunto di pentatonica e anche qui ci saranno i diagrammi con i box. Ecco, questa prima unit ha un carattere diciamo introduttivo, quindi potrebbe sembrare qualcosa per principianti, in realtà il corso non lo è, è un corso di livello intermedio, perché poi nel corso delle unit si spinge anche ben più avanti, ben oltre, ok? E poi alla fine di ogni unit c'è sempre anche un brano riepilogativo in cui intervengono anche proprio gli elementi di strumentazione. Vedi che qui per esempio c'è indicato pick up al manico, pick up al ponte, quindi significa che per esempio in questo brano, in un certo punto, bisognerà cambiare dal pick up al manico al pick up al ponte. E la stessa cosa varrà anche poi dopo per l'utilizzo degli effetti e di tutto il resto, quindi sostanzialmente la parte della strumentazione diventa per una volta qualcosa di non lasciato lì e spiegato solo in teoria, ma diventa parte integrante proprio del corso. Quindi bisognerà schiacciare con il piede il pedale in quel determinato punto del brano e trovo che questa sia un'intuizione interessante perché sono cose che spesso vengono date per scontate, ok? Comunque vi aggiornerò man mano che il corso si avvicina alla sua conclusione e sarà pronto. Poi ecco un'altra novità diciamo più sul lato personale, settimana prossima a partire da sabato tra qualche giorno sarò a Londra per una settimana. Quindi mi concedo questo periodo di riflessione a Londra in cui mi godrò la città, Londra è la mia città preferita in assoluto, me la godrò. Quindi lavorerò anche perché mi porterò il computer e quindi nel caso risponderò sempre alle vostre domande sul web, sarò comunque abbastanza presente. Anzi, sto pensando a come procurarmi una chitarra da tenere nell'appartamento dove sarò e quindi magari faremo anche dei video, delle dirette. Sarebbe bello aggiornarvi giornalmente, una sorta di diario quotidiano del mio soggiorno a Londra in cui magari vedrò in giro chitarre, andrò a concerti. Quindi cercherò anche qui di tenervi aggiornati su quello che faccio dalla splendida capitale del Regno Unito. Dopodiché vi aggiorno sulle prossime lezioni, quindi che saranno pubblicate su YouTube e sul sito nelle prossime settimane. Allora abbiamo lunedì, Crossroads nella versione dei Cream di Eric Clapton, quindi il tutorial su questo fantastico riff blues. Dopodiché in settimana, quindi a metà settimana, avremo una lezione extra sui tipi di chitarra, quindi come distinguere le varie tipologie di chitarra. È una lezione orientata chiaramente più ai principianti perché si parlerà delle differenze grossolane che ci sono tra una chitarra acustica, classica, elettrica, semiacustica, cose di questo genere, le principali caratteristiche. Dopodiché arriverà lunedì prossimo una lezione su cinque tecniche basilari per la chitarra, quindi sarà un video di super riassunto con le cinque tecniche più usate sulla chitarra. In settimana, della settimana prossima, arriverà un articolo sulla storia di Gretsch Guitars, quindi un articolo a cura di Sofia Savoia, che spesso pubblichiamo in settimana, appunto sulla storia di questo fantastico marchio che è Gretsch, di cui io sono felice possessore di un esemplare. E poi lunedì ancora successivo ci sarà una lezione su come improvvisare Gretsch in quattro passaggi, quindi un video credo che riscuoterà molto successo perché me lo chiedete da tantissimo tempo. Ecco, sarà un tutt'uno condensatissimo per come da zero, diciamo, imparare a improvvisare qualcosa di Gretsch in quattro passaggi. Ecco, riguardo alle prossime lezioni vi vorrei fare un piccolo appello e anche una piccola tiratina di orecchie, e cioè sul fatto di partecipare al successo di questo canale. E mi inserisco anche con un'altra news, abbiamo appena superato la barriera dei 55.000 iscritti, sembrava ieri che eravamo ai 50.000 iscritti, abbiamo già superato i 55.000 e ora corriamo forte verso i 60.000. Però ecco, ho l'impressione che a fronte di tutto l'impegno e la passione che io ci metto, ci sono ragazzi centinaia e centinaia di lezioni su YouTube e sul sito, non ci sia da parte di tutti una partecipazione nel condividere, quindi nell'aiutarmi a crescere, ok? Ci sono persone che mi sembra che usufruiscano un po' passivamente delle risorse e va benissimo, le risorse sono lì, sono in rete, sono disponibili, ognuno è libero di disporne come crede. Però ecco, mi piacerebbe vedere un pochino più di partecipazione nel condividere, quindi quando pubblico una nuova lezione, condividetela immediatamente sui social network, condividetela su Facebook, su Google+, su Twitter, dove volete, mandatelo via mail ai vostri amici, via WhatsApp, ok? Ma aiutatemi a condividere, mi piacerebbe che fosse sempre di più il nostro canale, che anche voi mi aiutaste a arrivare a questo traguardo di 60.000 iscritti che per me è strategicamente fondamentale e poi vi spiegherò meglio perché. Ok, intanto aiutatemi a raggiungerlo. Passiamo adesso alle risposte, alle domande che mi avete lasciato nella scorsa puntata di Vele Suona e vi invito nuovamente a, se volete, a essere salutati e a richiedermelo nei commenti sotto questo video. Allora, in ordine un pochino sparso e velocemente. Vediamo un po'. Claudio, potresti un giorno tornare su un arpeggio. Blood on rooftops, scusatemi, dei Genesis. Allora, non conosco il brano, ma me lo ascolterò sicuramente. DJ Pixel39 era chi me lo chiedeva. Poi, Damiano F mi chiede, cosa ne pensi del dilagare delle cover band? Fenomeno che esiste da quando il mercato discografico è andato in calo. Ma penso che, insomma, sia da un lato un'esigenza anche di chi deve suonare professionalmente, quindi un modo per trovare spazio per farsi sentire, e penso che da un lato sia persino in calo anche il fenomeno delle cover band, perché paradossalmente dieci anni fa anche le stesse tribute band vivevano un momento ben più florido e adesso fanno fatica pure loro per trovare situazioni personali. Quindi questo è abbastanza indicativo della crisi che vive oggigiorno nel mercato e il mondo della musica. Poi, Claudio, volevo chiederti un consiglio. Insegno chitarra per principianti. Il consiglio che vorrei? I compiti a casa. Chiedere almeno mezz'ora di esercizio tutti i giorni o un tempo diverso? Allora, questa domanda di Vincenzo Facchiano è interessante anche un pochino per tutti. Diciamo che il consiglio che si dà sempre è meglio mezz'ora o venti minuti tutti i giorni che fare due ore e poi dopo stare fermi 15 giorni. Quindi assolutamente la richiesta che deve essere fatta anche agli allievi più piccoli, ai bambini, è di prendere in mano la chitarra possibilmente 4-5 volte a settimana. Quindi tutti i giorni ma con un giorno o due di break. Ma tendenzialmente prenderla in mano sempre. Anche perché il fatto di lasciarla per giorni di fila è anche l'anticamera magari così ad iniziare ad essere svogliati, quindi ad allontanarsi dello strumento. Quindi mantenere il contatto con lo strumento quotidianamente, assolutamente. Poi vediamo un po' qualche altra domanda. Allora, Massimo Bignotti mi chiede un tutorial sul delay, impostazione del tempo, feedback. Beh, questo sarà assolutamente contenuto nel corso ROC intermedio di cui vi ho accennato prima. Ci sarà proprio una unit specifica dedicata al delay. Poi Cristina Ambrogio mi chiede Claudio ti piacciono i Dire Straits e gli ACDC? Beh, direi che dai tutorial che ho fatto si capisce il fatto che mi piacciono i Dire Straits e gli ACDC, assolutamente. Poi, vediamo un po', beh, Gianmarco Tagliani mi chiede Claudio fai un tutorial di Thunderstruck degli ACDC? E io provocatoriamente gli ho scritto, ecco Marco l'ho preparato al volo apposta per te e un secondo dopo la sua domanda gli ho mandato il link con la lezione. Questo per dire che tante volte ci sono già i tutorial che ho fatto sulle canzoni che avete in mente. Quindi una cosa importante, scrivete Cicolin su YouTube e il nome della canzone per scoprire se ho già fatto un tutorial. Ad esempio, vi interessa un tutorial dei Queen, scrivete Cicolin Queen e troverete su YouTube automaticamente quali tutorial l'ho fatto dedicati a quella band o a quel gruppo. Cicolin, le Zeppelin, oppure dedicato alla singola canzone Cicolin, Yes Day e troverete il tutorial di Yes Day. Questo è un modo velocissimo in un secondo per trovare le lezioni che vi interessano, che ho fatto io, su YouTube al volo. Ok, quindi prima di chiedermelo verificate che io non l'abbia già fatto. Allora, Mirko Cancelli mi chiede, Claudio potresti darci anticipazione riguardanti gli aspetti teorici che il nuovo corso tratterà? Allora, il nuovo corso avrà delle componenti teoriche ma non sarà il fulcro del corso, in quanto il corso acustico intermedio è più dedicato alla parte teorica. Questo sarà un corso dedicato alla pratica, come ho già spiegato, ritmico, solista e strumentazione. Poi, Adema 1 mi chiede, ciao Claudio, io abitualmente accordo la chitarra a 432 Hz, che dà alle corde un suono più morbido rispetto al 440 Hz. È corretta questa impostazione? Allora, sul corretto o non corretto chiaramente non esiste una risposta. Su questa questione del 440 Hz e del 432 rischierei di essere polemico, perché mi sembra che ci sia un'ondata che cerca di cavalcare questa cosa del 432 Hz quando si tratta di una sottigliezza, ragazzi, incredibile. Quindi io non discuto che fatta sentire una cordatura a 440 e subito dopo una cordatura a 432 i musicisti non sentano la differenza. La differenza si sente anche se è marginale, già con un ascolto comparato. Se poi non facciamo un ascolto comparato e ascoltiamo solo una delle due, bendati, diciamo, senza sapere, io inviterei a vedere chi è in grado di riconoscere l'una e l'altra. Quindi a me sembra che sia interessante tutta questa questione delle accordature, diciamo, alternative anche di pochi Hz. Ma attenzione, quando ci dicono che l'accordatura a 432 Hz cambia completamente la percezione, il relax, a me sembra un pochino eccessivo questa cosa, ok? O perlomeno a me, come musicista, questa cosa non arriva. Stiamo parlando, è un po' come quando la chitarra è rimasta lì scordata o non accordata per qualche tempo e si è tutta abbassata leggermente. Quello è l'effetto, non è che cambia la percezione della musica. Almeno questa è la mia opinione, ma so che sicuramente arriverà qualcuno che mi stroncherà e mi dirà che non capisco niente di musica e può anche essere. Puoi fare Love My Life dei Queen, mi dice Daniele Doria, sì, è un brano che mi interessa, che mi piace molto, l'ho sempre ascoltato, l'ho sempre amato, quindi magari arriverà. Puoi fare Money for Nothing dei Dire Straits, mi chiede Cristina Ambrogio, sì, è un altro brano che toccherò sicuramente. Anche se mi inviterei più che a chiedermi dei tutorial, a farmi delle domande in questa sede, ok? Simone Bigazzi, ciao Simone, intanto approfitto per salutarti, fa una domanda interessante, cioè perché non proporre dei tutorial che permettano di accompagnarsi con la voce, cioè come arrangiare un brano, nel caso si debba cantare, con la chitarra acustica, di modo da farlo stare in piedi un po' da one man band, ok? Quindi come gestire gli arrangiamenti anche a livello un po' percussivo di questa particolare cosa. È un argomento sicuramente interessante, Simone ci penserò e vedremo se riusciremo a svilupparlo. Allora, Maurizio Leonardo Solfietti, scusatemi, mi dice Claudio, guarda che nei tuoi tutorial mancano sempre delle parti, ok? Quindi more than a feeling manca la solo, quello dei Black Sabbath manca la solo. E io qui rispondo per l'ennesima volta a Maurizio Leonardo, ma a tutti gli altri che me l'hanno chiesto, è che non è che mancano, è che la mia linea editoriale è quella di trattare i tutorial parzialmente. E l'ho già spiegato mille volte il perché, perché altrimenti con il livello di dettaglio che metto io, che voglio mettere nei tutorial, si rischierebbe di fare lezioni lunghe tre ore. Perché se già un mio tutorial dura 20 minuti e passa, per quanto riguarda, non so, Little Wing, la parte iniziale, se dovessi guardare anche il resto della canzone, il tutorial durerebbe ore, ok? E voi dite, sì bene, ma a me interessa, sì, però sta di fatto che statisticamente i video così lunghi calano di attenzione alla gente e poi dopo non li guarda. Quindi il motivo è molto semplice, preferisco trattare una piccola parte, ma farla nel dettaglio. Ciò, detto questo, non escludo comunque in futuro di trattare anche situazioni del genere. Scusate, sto morendo. Allora, Mark K mi chiede, cosa ne pensi delle rock band nostrane, Marlene Kanz, After Hours o Verdena? Quindi parliamo di quel circuito anche di rock indipendente alternativo. Sono un grande fan degli After Hours, penso che Manuel Agnelli sia uno dei compositori italiani più talentuosi e anche uno dei cantanti più talentuosi, lo dico non da quando fa X Factor, ma lo conosco e lo seguo da una ventina di anni. Quindi mi piacciono abbastanza di Verdena, non sono mai stato un grande fan dei Marlene Kanz perché non amo fondamentalmente la voce di Cristiano Godano, che non mi piace. Shamed mi chiede, che ne pensi ogni tanto di fare qualche lezione sul basso? Allora, tenute da me personalmente, preferisco di no, io lo suono, ma non sono comunque un insegnante di basso, anche se in passato ho dato anche qualche lezione di basso. Mentre, e qui vi anticipo, visto che è stato un periodo di grande collaborazione sul canale, arriverà in futuro qualche lezione sul basso in collaborazione con un mio caro amico professionista bassista, ma per adesso non vi dico altro. Poi, Rob Pb, Rupi mi chiede, quando arriverà il video con le tue gaff? Cioè, si riferisce credo ai miei, diciamo, agli outtakes dei miei video in cui sbaglio, dico parolacce, quindi insomma, tutte le parti sbagliate, perché a fronte della, diciamo, della punta di iceberg di video che vedete voi, c'è una quantità di girato dietro enorme, con tutti i miei errori, prima o poi farò una selezione e magari li pubblicherò, assolutamente. Credo di aver risposto a tutto. Ecco, un'ultima cosa, Lucrezia Pierri mi chiede, suono il flauto, suono anche la chitarra, non riesco ad esercitarmi, perché ho poco tempo, vado a scuola, qualche consiglio. Ma il consiglio, un po' come dicevamo prima, è quello di essere costanti e soprattutto individuare un momento che sia sempre lo stesso nella giornata, quindi che siano 20 minuti, ma che siano, per esempio, sempre alle 14, ok? Ci ritagliamo un momento che sia sempre lo stesso, e sappiamo che quello lo dovremmo dedicare all'esercizio, o che sia subito prima di cena o subito dopo cena, ok? Quindi cerchiamo di capire qual è il nostro momento che possiamo dedicare alla chitarra e in quel momento spegnere il telefono, spegnere internet, spegnere Facebook, spegnere la mamma, spegnere la moglie e dedicarsi finalmente al nostro strumento. Credo di avervi detto tutto, arrivo sempre con la gola distrutta alla fine di questi video, perché devo parlare e dire tanto. Vi invito nuovamente a scrivermi le vostre domande qui sotto per la prossima puntata di Vele Suono. Noi ci vediamo lunedì con la nuova lezione dedicata a Crossroads e io sarò a Londra, ma fa niente, avremo modo lo stesso di interagire e ci vediamo anche alla prossima puntata di Vele Suono. Ciao, buona giornata! Grazie!